Questo Midlan 77-102 è una permuta, siccome sto aspettando dei componenti che mi servono per gli altri apparati nell'attesa cerco di dedicarmi a fare qualche altro lavoro anche per quanto riguarda gli apparati miei perché sono stati, come ho detto, già permutati, ne ho altri però non posso sempre buttare lì da parte e abbandonare devo in qualche modo trovare il tempo per dedicarmi. Ho notato che accendendolo rimane importante con 4 watt e se parlo al microfono non esce niente, quindi devo prima sistemare la questione qui del microfono e poi voglio vedere se riesco ad aumentarlo di potenza e di modulazione magari mettendo qualche schedina dentro visto che è un apparato piccolo potrebbe essere ideale per un camper, una macchina piccola. Adesso lo apro e vediamo di fare qualcosa. Il microfono è sistemato, c'era un cavetto della massa che toccava, quando il microfono era chiuso lo schiacciavo vicino al cavetto della trasmissione, del PTT. Prova, oola, come modulazione i picchi sono zero però si sente, oola oola, vediamo se lo possiamo migliorare e poi una volta ti aumento la potenza se ci riesco voglio vedere di aggiungere qualche schedina all'interno. avevo completato il lavoro diversi giorni fa, forse qualche mese fa, però ho aspettato perché l'altoparlante piccolino non permetteva di sentire il preascolto, cioè se sentivo il preascolto però molto basso anche per quanto riguarda la ripetizione dell'eco, quindi ho ordinato un altoparlante, uno, ne ho ordinato diverse, su ebay li ho trovati da 2 watt, quello suo era da 1 watt, lo sto provando però ugualmente non cambia molto, è piccolino e non... perché con l'altoparlante esterno va bene, con questo qua è piccolo e l'eco si sente molto basso, però se io accendo l'altra radio in ricezione va benissimo. quindi per fare un riepilogo ho cambiato il finale, ci ho messo un MOSFET, quello che di solito si usa nei 48, nei BSX, quello nuovo, 48 nuovo, RDH16HF1 mi sembra, non riesco a fare in mente locale, comunque credo che avete capito poi, e quindi va bene, a differenza dell'altro, dell'Allan 199, qui sono riuscito a polarizzare il transistor e quindi va bene poi ci ho messo l'eco qui, il Roger Beep l'ho messo qua, ho cambiato il connettore microfonico, ci ho messo quello a vite per quanto riguarda l'eco, qui in questa radio ho lasciato lo squelcio che funzionasse a differenza del 199 per quanto riguarda l'eco si regola da questo trimmer qua piccolino, una volta impostata la regolazione si lascia così la scheda è la mini eco, allora, entrata audio si regola da qui, sarebbe il segnale che viene dal microfono, uscita audio, simmetria, delay, la velocità e ripetizione Roger Beep, Beep più acuto, più grave, durata del Beep quindi lo guidiamo e lo proviamo, ripeto, il preascolto è molto basso avevo detto che lo metterò in vendita, questo qua, quindi è meglio che dico queste cose prima se no poi sorgono delle incomprensioni allora, adesso proviamo prima la potenza, volevo dire che così si inserisce l'eco e il preascolto così si escludono stavo dicendo che proviamo la potenza, voglio aggiungere che questo apparato, anche se è piccolo nelle condizioni in cui si trova adesso, non ha nulla da invidiare agli apparati più grossi tipo Aluna 48 o altri apparati che sono modificati quindi abbiamo questa potenza qua sono 9,5, 10 oooola oooola sono 20 in modulazione mettiamo un po' di eco adesso, un po' quello che c'è, come è stato regolato poi volendo si può anche ridurre oppure alzare ma non lo consiglio alzare perché poi da fastidio se si alza troppo, se uno vuole provare bene però così dovrebbe andare bene, forse anche di meno ho sistemato pure il led della modulazione perché prima non si vedeva, modulava però non si vedeva bene prova oooola attenzione alla frequenza, passo cambio uno, due, tre, cambio bravo 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 e anche per questa radio è tutto grazie per aver visto questo video e vi auguro anche oggi una buona giornata grazie ancora grazie